Allora ho deciso di tornare semplicemente perché avevo una canzone secondo me valida da riproporre al festival e quindi ovviamente che quando mi hanno riconfermato ero molto contento perché non potevo dare per scontato niente a parte che io generalmente non ho per scontato nulla, quindi aver presentato una nuova canzone ed essere di nuovo accettato mi rende molto, come dire, anche fiero di quello che faccio. La canzone, il cui titolo è Invece Sì, è difficile spiegarla senza dire cose, però insomma è una canzone in una delle mie canzoni cerco di mettere un po' di pensieri miei e un po' di pensieri generali, quindi io mi auguro che colgano il segno nel senso che la gente ci si ritrovi. Per me è importante trovare un collegamento empatico con gli altri e credo che questa canzone abbia le caratteristiche per essere empatica. Saremo 2021 secondo me per tutti, credo che sia l'anno della rinascita, mi sembra che anche Amadeus l'ha definito così, ma in effetti è così, quindi io mi aspetto che, vabbè, io cercherò di divertirmi come sempre e mi auguro che la gente guardandolo veramente ritrovi la voglia senza più pensare a quello che è successo, ma si concentri al futuro, allo star bene, a essere più positivi, a dare di più. Io credo che la gente abbia tanta voglia di serenità e quindi sarà comunque un saremo unico, vuoi per quello che è successo, vuoi per l'energia appunto di rivalsa, rinascita, quello che vuoi per ripartire.